Dopo due anni di sperimentazione, Goccia Verde è pronto per entrare sul mercato per distinguere prodotti agroalimentari che nascono facendo un uso sostenibile dell'acqua e garantendo un rispetto quali quantitativo di questa risorsa. Il percorso, in linea con le disposizioni europee, inizia dal Consorzio di Bonifica e coinvolge in modo volontario le imprese che utilizzano l'acqua a scopo irriguo. È un marchio volontario che certifica l'uso razionale, sostenibile, equilibrato della risorsa acqua. Un marchio importante che mette e certifica tutto un lavoro portato avanti dalla filiera. Da una parte dai Consorzi di Bonifica che gestiscono le reti di distribuzione collettive e dall'altra delle imprese agricole che ben conoscono il valore dell'acqua. Una notizia accolta positivamente dalle aziende agricole del territorio che considerano strategico anche l'ampliamento del sistema occidentale di Montedoglio per rafforzare così l'irrigazione collettiva in Valdichiana e Valtiberina superando il prelievo autonomo di gran lunga più impattante sull'ambiente. Avendo l'acqua pulita della diga del Montedoglio immetteremo sui terreni dell'acqua pulita e quindi avremo ancora meno impatto ambientale. E poi un impatto ambientale sicuramente inferiore perché l'acqua della diga del Montedoglio viene in pressione quindi non adopereremo le pompe a gasolio che abbiamo sui fiumi per pescare acqua. Certo che siamo attenti al consumo dell'acqua anche perché qui nella nostra zona fino adesso l'acqua non è una risorsa infinita ma bisogna risparmiarla perché se no alla fine manca e anche quando ci sarà quella della diga la risparmieremo ugualmente.